Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei parlare di un libro che ho letto pochissimi giorni fa, l'avevo iniziato il giorno di feragosto e l'ho finito ieri sera. Ed è veramente forse la prima volta che io leggo un libro in pochissimi giorni, perché io solitamente a leggere ci metto molto di più. Questa volta non riuscivo veramente a staccare gli occhi dalle pagine, perché veramente è un libro che mi ha presa tantissimo. E mi riferisco a Radio Morte di Gianluca Morozzi. Questo è un libro che già mi aveva attirata tantissimo quando avevo letto la quarta di copertina, perché avevo letto che appunto era la storia di una famiglia che si definiva perfetta, al punto di aver scritto un libro, La famiglia perfetta ai tempi della crisi, e insomma andavano in giro per trasmissioni radio, interviste, varie ed eventuali a dichiarare quanto loro fossero perfetti, finché un giorno vengono contattati da una radio per un'intervista e quando arrivano lì gli viene comunicato che uno di loro non uscirà vivo da quella stazione radio e loro dovranno decidere chi sarà a morire dei quattro. E questo già mi aveva quindi colpita e volevo leggere questo libro. L'ho letto e devo dire che effettivamente sono rimasta abbastanza soddisfatta, perché effettivamente è proprio un bel libro. Io fin dalle prime pagine in realtà non ho avuto la sensazione che questa fosse una famiglia perfetta, perché già dalle prime pagine voi non avrete mai la sensazione che la famiglia sia perfetta, perché già in quello che dicono i personaggi proprio nelle prime righe vi fa capire quanto in realtà questa sia una maschera di perfezione, ma quanto in realtà all'interno della famiglia ci sia in qualche modo del marcio, già si percepisce. Comunque la storia comincia appunto con la famiglia che è in macchina diretta verso questa stazione radio per fare questa intervista, ognuno di loro immerso nei propri pensieri che appunto già fanno capire quanto in realtà di perfetto ci sia ben poco, poi quando arrivano in questa stazione radio si rendono conto che è un posto abbastanza sperduto, è un po' anche disabitato e si stupiscono. Comunque entrano, trovano una ragazza che li invita ad accomodarsi e a lasciare fuori i cellulari, e loro su questo sono un po' diffidenti, però alla fine si fanno convincere e lasciano fuori i cellulari. Entrano nella stanza, la porta si chiude automaticamente e l'intervista comincia. La famiglia è composta da il papà, la mamma, un fratello e una sorella, e ognuno di loro all'inizio si aspetta, diciamo, le domande che gli vengono rivolte. Però poi accade qualcosa, le domande non sono come nelle solite interviste, a un certo punto cominciano a essere molto più incalzanti, molto diverse. Si vede che comunque vogliono andare a scoprire, diciamo, qualche segreto, qualche cosa che non è mai stato rivelato. Diciamo che l'intervista prende una piega che i familiari gradiscono poco, perché comunque queste domande sono veramente molto personali, molto incalzanti, in qualche modo l'intervistatrice vuole andare a colpire dei nervi scoperti, quindi insomma a un certo punto il papà, che è il capofamiglia, si alza arrabbiato, dice basta me ne vado, fa per aprire la porta e si rende conto che la porta non si apre, perché loro sono chiusi dentro, sono prigionieri. L'intervistatrice a questo punto gli dichiara, gli rivela che loro potranno uscire da lì soltanto dopo che sarà trascorsa tutta la notte, ma usciranno soltanto tre di loro, perché il quarto rimarrà dentro soffocato da un gas mortale e saranno loro a decidere chi dei quattro dovrà rimanere in questa radio e quindi morire. Loro ovviamente sono disperati, cercano di ascogitare dei piani per uscire da lì, ma nessuno di questi sembra funzionare, a un certo punto la ragazza che conduce l'intervista gli comunica che possono, se vogliono, acquistare del tempo, quindi avere delle ore di vita in più in cambio di una confessione, quindi ciascuno di loro deve in qualche modo rivelare degli aspetti di sé o della propria famiglia che fino a quel momento erano rimasti nascosti e ovviamente la ragazza non si accontenta di frivolezze, ma vuole delle cose abbastanza grosse, vuole delle confessioni in qualche modo molto gravi, molto serie. E poi insomma accade quello che accade, io non vi svelo altro perché comunque davvero è bene che voi lo scopriate pagina dopo pagina, quello che vi posso dire è che questo libro mi ha veramente colpita tantissimo. Io mentre leggevo il libro in qualche modo sgranavo gli occhi perché davvero ci sono una serie di colpi di scena che io non mi aspettavo e c'è un finale veramente pazzesco, cioè pazzesco. Io non vi dico altro perché quando sono arrivata all'ultima pagina ho chiuso il libro e ho detto caspita che libro, cioè veramente sono rimasta molto colpita e insomma non è una cosa comune, non è comune che io rimanga così tanto colpita perché per quanto un libro mi possa piacere, per quanto ci possano essere degli aspetti che magari mi colpiscono eccetera, ma un libro intero che pagina dopo pagina mi colpisce così tanto è la prima volta che accade e in qualche modo anche un po' quello che mi ha trasmesso, perché questo libro comunque in qualche modo riesce a trasmettere ansia perché se voi mentre lo leggete vi calate un po' nella psicologia del personaggio beh caspita effettivamente è un libro che fa anche riflettere parecchio. Quindi insomma non mi resta che consigliarvelo, quello che vi dico che non è un libro banale, cioè nel senso che è un libro che ha anche dei tratti abbastanza forti, perché comunque quello che viene svelato poi nelle pagine del libro, ripeto, non sono frivolezze, sono cose piuttosto forti. A me ha colpito in particolare un episodio di quelli che sono stati raccontati in questo libro, ovviamente non ve lo svelo perché veramente sarebbe uno spoiler, quindi non ve lo svelo, però diciamo che questo episodio mi ha davvero colpito e mentre lo leggevo davvero in qualche modo avevo un po' i grividi perché davvero insomma ci sono delle storie qua che a seconda delle varie sensibilità riescono veramente a colpire parecchio, quindi insomma è un libro forte ma veramente molto bello, a me è piaciuto veramente molto, sono contentissima di averlo acquistato, di averlo letto perché è anche abbastanza originale, nel senso che comunque non è una storia banale con delle cose che in qualche modo si leggono e si rileggono in migliaia di romanzi, questo davvero ha una sua originalità. Quindi insomma ve lo consiglio, leggetelo, vi lascio in info box il link per accedere direttamente al libro su Amazon se lo volete acquistare online, vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima.